ben ritrovati con questo nuovo video nel quale vi voglio parlare brevemente di conchi conchi che è uno strumento un software un'utilità che è diventata piuttosto famosa se ne sente parlare o se ne può leggere in rete abbastanza spesso e si tratta di cosa conchi è un diciamo un monitor di sistema fondamentalmente alternativo al monitor di sistema classico come possiamo avere nel nostro ubuntu per esempio questo il nostro monitor di sistema ecco per intenderci quindi di base conchi è proprio questo un monitor di sistema alternativo a quelli classici con l'interfaccia grafica e come come agisce questo conchi con cosa abbiamo che fare una volta che abbiamo installato conchi con appunto uno strumento leggero quindi non pesa molto sul vostro sistema sul vostro pc sulla vostra cpu né sulla vostra memoria ram e permette appunto di visualizzare un ampio ventaglio di informazioni sia di sistema che non ecco perché come potete vedere qui nella pagina del progetto conchi qui sullo sfondo del video è dichiarato come un leggero monitor di sistema però conchi appunto ha avuto successo ed è stato anche ampliato cioè non è che ci presenta solo informazioni tipo l'uso della cpu della memoria lo spazio disco il traffico di rete eccetera eccetera ma può anche a seconda dei temi creati per conchi può anche presentare altre informazioni come non so le informazioni della meteo per esempio ecco quindi in quanto tale conchi è è nato come un'alternativa un sistema un monitor di sistema leggero alternativo agli altri che però ha preso piede diciamo così e viene appunto usato anche per mostrare altre informazioni e appunto conchi si basa su dei temi cioè c'è un motore software nucleo software diciamo così base sul quale si applicano dei temi descritti in un certo linguaggio e questi temi solitamente sono anche graficamente eleganti cioè chi crea i temi ci mette il suo impegno per rendere anche carini eleganti questi questi elementi di conchi che poi ci appaiono sul nostro video e come come funziona conchi quindi una volta avviato uno di questi temi con il motore conchi che che lo sfrutta che lo usa viene diciamo così applicato direttamente sul desktop una una finestra particolare che viene chiamata vi widget e che si applica un po come un'etichetta sul desktop quindi non è una finestra normale come potete vedere questa per esempio della mia scaletta con il suo bordo titolo che si può ingrandire o rimpicciolire con i pulsanti per riconizzare per massimizzare per chiudere la finestra eccetera eccetera è una finestra ma non ha nulla di questa decorazione delle finestre ma è come un'etichetta che si applica al vostro desktop ecco io per fare una dimostrazione ho installato alcune parti scusate alcuni di questi un paio di questi temi conchi proprio sul mio desktop per mostrarvi come si presenta conchi ecco qui vedete che ho il mio desktop normalissimo e su questo desktop ci sono per esempio un tema conchi è composto da questi una due tre quattro cinque widget e un altro tema conchi quindi ne ho attivi due in questo momento sul mio sistema in realtà quindi uno è questo il secondo è questo però vedete che non posso interagire in nessun modo con queste chiamiamo le finestre che in realtà si chiamano widget e sono proprio messe come ho detto come una metafora potrebbe essere proprio un autoadesivo un etichetta autoadesiva posta sopra il vostro desktop e non disturba minimamente il resto delle finestre chiamiamole normali ecco quindi queste sono proprio come degli oggetti appiccicati al vostro desktop e possiamo anche vederlo vediamo un po possiamo vederlo qui vedete che i classici 4 desktop dell'interfaccia ubuntu vede che in tutti e quattro si presentano i widget che vedete qui in basso la serie di cinque widget di un tema e qui l'altro widget che mi presenta delle informazioni meteorologiche ecco quello che dicevo conchi appunto è nato come monitor di sistema in effetti questo tema che vedete qui in basso allo schermo presenta l'ora la data vabbè e da quanto tempo il mio sistema è acceso quindi senza reboot in questo caso di un giorno e cinque ore ho fatto in effetti ho fatto il reboot circa un giorno fa qui presenta la situazione della cpu questo momento che sto registrando anche il video sta andando fra il 60 e 70 per cento la memoria quanto è occupata la memoria ram la swap qua sotto il disco partizione route o mio non ho partizione separate quindi mi presenta sempre il disco il disco principale del mio pc che è pieno al 60 per cento e qui il traffico di rete vedete download e upload quindi della rete andate dati ricevuti e dati inviati sulla rete e questo punto qui in alto a destra è un altro tema conchi quindi un'altra istanza di conchi avviata che presenta questo widget bianco sfondo bianco con delle informazioni meteorologiche di una località che ho impostato quindi vedete che con le altre finestre posso lavorare normalmente con il mio pc senza minimamente preoccuparmi anche di interferire con questi widget conchi perché non reagiscono a niente tasto destro del mouse sinistro non si spostano niente sono lì come fossero parte del disegno del desktop ecco qui vedete il mio sfondo della scrivania presenta il pangolino qua e questi widget è come se facessero praticamente parte di questo disegno dello sfondo desktop ecco però in realtà sono vivi vedete che presentano sempre delle informazioni si aggiornano ogni pochi secondi sono vivi e anche le informazioni meteorologiche giorno per giorno vengono aggiornate allineate alla situazione ecco questo in sostanza è conchi quindi è un monitor di sistema particolare con anche caratteristiche ulteriori a seconda dei temi creati da chi è appassionato di questo software che può creare che hanno creato e possono creare gli appassionati dei temi particolari che possono anche mostrare informazioni che nulla hanno a che fare col sistema del pc ma con altre informazioni ecco quindi questo è conchi vi ho mostrato come si presenta conchi una volta avviato potete avviare uno o più istanze quindi esemplari di conchi con diversi temi in effetti io vi ho appena mostrato che sto usando in questo momento due temi separati di conchi quindi due esemplari diciamo così del software conchi in esecuzione sul pc andiamo avanti un attimo come si installa quindi se vi interessa se perlomeno siete curiosi di vedere come funziona anche sul vostro pc conchi se già non lo usate perché ho detto che è abbastanza famoso, noto come si installa quindi per la nostra Ubuntu l'abbiamo direttamente nell'Ubuntu Software Center come si fa? si apre l'Ubuntu Software Center si cerca conchi ecco a dipendenza della versione di Ubuntu che ho usato infatti io sto ancora usando una 1204 e devo preoccuparmi di attivare eventualmente i cosiddetti elementi tecnici mi sembra che in versioni successive di Ubuntu non ci sia più questa opzione perché vengono mostrati direttamente diciamo i programmi che servono vabbè lasciamo stare questo dettaglio comunque Ubuntu Software Center cercate conchi e vedete che io nel mio caso ho installato due pacchetti che hanno a che fare con conchi diciamo che il conchi come dire nativo base riguarda questo pacchetto conchi all quindi selezionate questo e installate abbiamo già installato l'altro pacchetto conchi manager è un'utilità che ci facilita la gestione dei temi conchi in quanto tali ecco potrebbe scrivo qui nella mia scaletta potrebbe valere la pena soprattutto per i principianti che iniziano a utilizzare conchi installare anche conchi manager perché facilita appunto la gestione e l'impostazione delle opzioni che i vari temi di conchi prevedono includono perché il conchi nativo diciamo così funziona tutto sulla base di file di configurazione di linguaggio un linguaggio particolare di conchi che bisogna poi conoscere per impostare o modificare le opzioni che fra un attimo vi mostro cosa vuol dire quindi capirete che appena vedete come sono questi file di configurazione probabilmente vi convincerete anche voi che vale la pena installare conchi manager che è molto più semplice soprattutto penso all'inizio dell'utilizzo di conchi ecco quindi il mio consiglio è cercare conchi e installare entrambi questi pacchetti conchi all e conchi manager una volta fatto questo vabbè possiamo chiudere il software center ecco qui dico appunto che adesso conchi è installato una volta che ho installato quei pacchetti dico che conchi manager ci aiuta nel gestire conchi in che senso una volta installato conchi ci sono installati anche dei temi di base diciamo un gruppo di temi poi in rete qua e là si possono trovare dei temi aggiuntivi creati da persone appunto appassionate di conchi ma i temi base vengono installati da quei pacchetti e se installiamo conchi manager a questa icona lo vedete conchi manager e se lo avviamo ci mostra nell'interfaccia ci mostra un elenco appunto dei temi che si installano assieme a conchi manager nel mio caso specifico ecco magari può essere utile se mi sposto qui così abbiamo sott'occhio anche i temi di conchi che sono attivi in questo momento ecco nel mio caso specifico cos'ho attivato questo tema golden grey del quale comodamente possiamo vedere anche un'anteprima prima di attivarlo vedete qui l'anteprima che poi sono i widget che sono riportati qui sotto in basso nel mio schermo lo vedete l'anteprima è questo qua il mio tema si chiaccia preview si vede un'anteprima del tema e anche google conchi che poi questo sulla destra con le previsioni meteorologiche google conchi anche qui c'è il tasto preview e vedete che qui ci presenta appunto un uno stile buono sfondo scuro però è lo stesso tipo di widget con le previsioni meteorologiche ecco poi ci sono tanti altri temi vedete qua l'elenco è abbastanza lungo altri temi di quali potete attivare con l'opzione qui enable il vistino qua vedete che qui ne ho attivato uno il vistino qui non c'è il vistino qua sopra perché non ho attivato completamente il tema ma solo una parte una modalità di questo tema vedete il vistino qua sotto diciamo un file di configurazione solo su tre per questo tema mentre per questo li ho attivati tutti vedete i file di configurazione per la CPU che la vedete qui sono poi questi cinque uno, due, tre, quattro, cinque sono questi cinque widget che li ho attivati tutti per questo tema ecco quindi conchi manager vedete che vi aiuta sia vedere un'anteprima del tema se vi piace se volete attivare quello vi piace fate il vistino e gestite cosa volete attivare se ha delle sezioni diverse il tema di conchi e fin qui siete a posto poi nelle altre schede di conchi manager edit potete gestire scegliendo appunto uno dei temi che avete attivato ne scegliete uno di quelli appunto che avete attivato adesso vediamo un po' se prendo quello che ho attivato io golden grey che ne so CPU ecco golden grey CPU è uno di quelli questo eh vediamo golden grey e CPU particolarmente questo ecco se io mi posiziono su quello golden grey CPU ecco si spegne un attimo i temi mi concentro sul CPU e qui vedete che posso dire dove voglio posizionarlo bottom left vuol dire in basso sinistra vedete che è posizionato verso la sinistra quanto si dista dal bordo dello schermo eccetera eccetera se è trasparente se no la grossezza di questo widget posso ingrandirlo rimpicciolirlo poi se ci sono altre opzioni attive o meno non è detto che siano tutte attive di queste schede qui sulla sinistra non è detto vedete per esempio questo qui è grigiato perché non è disponibile per questo per questo widget particolare mentre altre sono attive vedete sono attive altre opzioni alcune no alcune sì alcune no ecco poi fate apply change quindi applicate i cambiamenti oppure rinunciate con discard eccetera eccetera ecco qui vedete che appunto potete con questo conchi manager gestire facilmente come volete far apparire il o i vostri temi di conchi che volete avere sul destro poi c'è ancora la scheda opzioni che vi mostra l'opzione scusate il gioco di parole di far partire conchi ad ogni boot del pc quindi alla ripartenza del pc non dovete farlo manualmente voi ma con questa opzione attiva vi viene messo direttamente nell'applicazione da view or conchi eccolo qua col suo comando ve lo prepara già lui con quell'opzione lì del conchi manager vi crea già il comando di partenza per far partire la partenza del pc questo con questo pulsante potete importare dei temi che trovate in rete compatibili con conchi manager perché conchi manager necessita di temi come dire adattati a questo programma rispetto ai temi del conchi come dire naturale originale ecco sono un po' diversi non so qualche configurazione sono impostati in modo leggermente diverso per poter funzionare con questo programma però ce ne sono parecchi di temi e non è che c'è scarsità per uno o per l'altro e poi vabbè le informazioni dello sviluppatore ecco questo è conchi manager che vedete è un'interfaccia grafica per gestire le opzioni di questi temi parecchi temi già preinstallati assieme a questo pacchetto ecco possiamo anche chiuderlo adesso perché abbiamo fatto una carrellata su questo conchi già che ci siamo il monitor di sistema l'ho aperto per mostrarvi che ogni widget è un istanzo un esemplare di conchi che gira sul vostro sistema ecco qui vedete che ho aperto 1 2 3 4 5 e 6 widget e qui abbiamo 1 2 3 4 5 6 programmi processi compits attivi abbiamo detto all'inizio del video che è leggero conchi non pesa molto né sulla ram né sulla cpu vedete che cpu zero non la sta usando e ram veramente un mega 2 tra il 2 mega e mezzo e meno un mega e mezzo per ogni per ogni widget quindi scusate vedete che è molto leggero conchi da non carica non sfrutta molto il vostro proprio il suo scopo di essere un monitor di sistema che non sfrutti molto che non occupi molto il vostro sistema pc ecco possiamo spegnere anche questo torniamo alla nostra scaletta quindi vi ho detto conchi manager potrebbe appunto valere la pena installarlo per quello che vi ho mostrato cioè per questa interfaccia grafica semplice da usare che vi permette di impostare attivare facilmente disattivare temi di conchi e quindi vi permette di gestire il tutto con questa comoda interfaccia questo perché senza voler usare conchi manager abbiamo il conchi come dire nativo appunto al naturale il conchi al naturale è praticamente tutto gestito tramite degli script con un linguaggio particolare quando installate conchi vi crea nella vostra home tra l'altro scusate parentesi una cartella nascosta conchi con dentro i vari temi con le impostazioni eccetera eccetera il conchi manager invece vi crea una cartella non nascosta nella vostra home con i suoi temi eccoli qua questo è poi l'elenco dei temi che abbiamo visto nell'interfaccia grafica un attimo fa del conchi manager e il file diciamo che farà partire conchi ad ogni partenza del pc è questo eccetera eccetera quindi conchi manager vi crea appunto una cartella non nascosta nella vostra home invece il conchi nativo appunto vi crea una cartella nascosta punto conchi nella vostra home con dentro le sottocartelle con i vari temi ecco entriamo in uno a caso per così dire e vedete che un tema può essere composto da varie componenti quindi le immagini l'anteprima ecco l'anteprima del tema quella che grazie all'interfaccia di conchi manager possiamo vedere comodamente premendo un pulsante qui abbiamo l'anteprima quindi questo tema di conchi si presenterebbe così se l'attivassi il file di configurazione di conchi si chiama sempre conchi rc questo qua e qui potete vedere il setting ovvero le impostazioni di questo tema ecco vedete che senza conchi manager noi dobbiamo conoscere come si chiamano le opzioni di conchi le varie impostazioni e modificare manualmente questo file puoi far ripartire conchi vedere se ci piace spegnerlo rimodificare questo file vedete che oddio non voglio dire che è impossibile però avete capito perché vi consiglio di installare conchi manager ecco qui vedete come può essere lungo un file di configurazione a dipendenza del tema di conchi di cosa presenta il tema può essere più o meno lungo più o meno complesso l'impostazione del tema vedete ci sono anche delle parti tipo programmazione if se goto cioè ci sono anche delle parti logiche in un file di configurazione per far funzionare un certo particolare tema di conchi vedete che è abbastanza complesso ecco diciamo che a prima vista come ho detto uno che non ha mai visto conchi dice adesso cosa faccio con questo file ecco perché conchi manager per rompere il ghiaccio sicuramente dà una mano con la sua interfaccia grafica poi se uno si appassiona conchi può cominciare anche a capire cosa vogliono dire queste varie opzioni cosa servono provare a modificare vederne l'effetto eccetera eccetera però ecco se uno ha fretta tra virgolette di usare conchi subito senza immergersi in chissà quali studi di file di configurazione conchi manager è l'interfaccia grafica adatta ecco come facciamo far partire alla partenza del pc i nostri widget quindi farli apparire ad ogni partenza del pc dobbiamo far partire appunto un esemplare di conchi ecco e solitamente ogni tema di conchi come in questo caso nike drive per esempio include come vedete qui uno script chiamato star conchi sh ecco se guardiamo il contenuto di questo script vediamo che fa partire un esemplare di conchi con il conchi rc ovvero il file di configurazione eccolo qui poi qui vedo che necessita di altre cose in python è un tema complesso questo che ho scelto come esempio comunque avete capito quindi c'è il conchi diciamo al naturale senza comodità diciamo così senza troppo comfort è composto da un certo numero di elementi che compongono il tema più il file di configurazione che si chiama conchi rc più uno script shell command da terminale diciamo da linguaggio da terminale che fa partire appunto questo tema un'istanza un esemplare di conchi che fa partire questo tema ecco anche altri temi sicuramente hanno più o meno le stesse cose la disposizione delle cartelle degli oggetti è diversa per esempio di questo altro tema però c'è sempre il conchi rc che sarà diverso perché questo è un tema diverso vedete completamente diverso e da qualche parte ci sarà anche lo start vediamo un po' da qualche parte ci sarà lo start ecco qui si chiama start up ma di solito si chiama star conchi sh qui è start up vedete che fa partire addirittura tre esemplari di conchi questo tema ogni tema sono abbastanza liberi nelle configurazioni dei vari temi perché poi basta che ci sia l'rc che va a puntare alle varie sottocartelle delle varie parti del tema non ha molta importanza l'importante è il conchi rc e una shell di comandi per far partire il tutto ecco comunque vedete che perché è comodo avere conchi manager ecco conchi inattivo insomma ci vuole un attimino di come dire studio per saperlo usare ecco per carità se il tema è già pronto così e piace così e non si deve modificare nulla non è complicato in sé usare basta sapere che si deve cercare lo script shell per farlo partire ed è finita lì ma se un tema deve essere magari impostato tipo le previsioni meteo la località e così bisogna per forza entrare nel file di configurazione questo non è sempre così semplice oppure se a me non piace che il widget appaia per difetto in alto a sinistra ma ho bisogno che mi appaia in basso a destra devo comunque entrare in questo file di configurazione cercare dove è il posizionamento del widget per cambiargli posizione eccetera eccetera ecco diciamo può essere anche un po' complicatino ecco far partire e posizionare impostare il tema come vogliamo in conchi nativo ecco quindi spiegate la differenza e il perché è utile avere conchi manager l'ultimo punto da sapere è che lo script per far partire il tema tipo eccolo qua star conchi sh va messo anche lui manualmente perché non c'è l'opzione dell'interfaccia grafica di conchi manager che ce lo fa ma questo per esempio questo script di partenza di questo tema conchi va messo se vogliamo farlo partire ad ogni avvio del pc nelle applicazioni di avvio quindi bisogna andare all'applicazione di avvio bisogna fare aggiungi mettergli il nostro nome del tema conchi per distinguere con il comando qua sh bla 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 per far partire questa questo script questa shell per far partire questo particolare tema quindi ad ogni tema che o ad ogni widget in più che vogliamo aggiungere e che non fa parte di conchi manager dobbiamo agire con l'applicazione di avvio quindi aggiungere man mano conchi 1 conchi 2 conchi 3 e a partenza al pc partiranno tutti questi script che faranno partire i rispettivi temi ecco come sempre qui vi lascio qualche link utile a capire ad approfondire il tema conchi e conchi manager spero che come sempre che anche questo video vi sia risultato interessante o curioso o avrebbe stuzzicato ad approfondire il tema conchi magari vederlo sul vostro desktop una volta nella vostra vita per vedere se vi piace concludo il video mostrandovi ancora una volta i widget che io attivo in questo momento sul mio sistema eccoli qua belli carini eleganti e con questo vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video in un prossimo futuro ciao ciao ciao